Quinta lezione del mio corso per licei di Scienze della Terra, modulo Geografia Astronomica. In questa lezione parlerò della Via Lattea, la galassia che ci ospita. Infatti vedremo la nostra posizione detto la galassia, vedremo la struttura delle galassie, come Hubble ha classificato le varie tipologie di galassie e quello che ha scoperto osservando le altre galassie. Cominciamo. Il Sole è solo una delle oltre 300 miliardi di stelle che costituiscono un sistema molto più vasto a cui facciamo parte. Questo grande sistema di stelle con i loro sistemi planetari ed arricchito da gas e polvere si chiama galassia. La nostra in particolare si chiama Via Lattea. Quindi noi viviamo dentro una galassia, un oggetto molto grande, e questa galassia ha un nome, a Via Lattea. Questo perché ci sono tante altre galassie nell'universo, la nostra è solamente una delle tante. Questa è una bellissima fotografia in cui si vede il nucleo della nostra galassia dalla Terra. Ovviamente questa foto è stata ottenuta con una bella esposizione, però io una volta feci un viaggio in Sud America e vi assicuro che lontano dalle luci delle città, in mezzo al deserto, si vede così, anche con il cielo molto più nero. Andiamo avanti. Questa è la classificazione di Hubble. Conosceremo dopo questo signore Hubble che negli anni venti ha scoperto le altre galassie e, osservando le altre galassie, ha capito che esisteva uno schema per poterle classificare. Ci sono galassie sferiche, ellittiche, e poi queste si possono evolvere in due tipologie, quelle a spirale semplice e quelle a spirale barrata. Esiste poi una quarta tipologia di galassie che è quella irregolare. Adesso le vediamo meglio. Infatti, principalmente, vengono distinte tre tipologie strutturali di una galassia ed una quarta irregolare. La prima è quella ellittica. Sono le galassie sferiche o schiacciate. Contengono poco gas e poco polvere e, al loro interno, il processo di formazione stellare è molto rallentato, se non addirittura esaurito. Poi, invece, abbiamo le galassie a spirale. Sono quelle molto più ricche di polvere e gas, strutturati in questi bracci bellissimi. Hanno un sacco di zone dove si stanno formando nuove stelle e hanno sicuramente un moto di rotazione più rapido delle galassie ellittiche. Poi, ancora, abbiamo le galassie a spirale barrata. La Via Lattia, la nostra galassia, è una di questo tipo e la loro caratteristica è dovuta a un avvicinamento con un'altra galassia oppure addirittura semplicemente a una forza centrifuga particolare dovuta alla loro rotazione. E poi, ancora, la quarta, abbiamo invece le galassie regolari, ovvero galassie che di recente hanno subito una deformazione perché c'è stata un'interazione molto forte con un'altra galassia, perché c'è stato un impatto con un'altra galassia e quindi, in questa era geologica, sono sotto una forma totalmente deformata. Vedremo che le galassie col tempo si evolvono. Infatti, le galassie si scontrano in continuazione e scontrandosi possono evolversi in galassie ellittiche oppure irregolari, oppure a spirali o a spirali barrate. Quindi le galassie, in realtà, nel tempo cambiano e possono evolversi in modo diverso. Anche la nostra galassia, in un lontano futuro, si scontrerà con un'altra galassia, infatti la Via Lattia sta andando in rotta di collisione con la galassia più vicina, che è quella di Andromeda. E in un lontano futuro interagiranno formando una gigantesca galassia regolare e poi, se rimarranno indisturbate per molto tempo, una galassia a spirale molto più grande. Andiamo avanti e vediamo dove ci troviamo noi nella galassia. Questa è una raffigurazione artistica della Via Lattia. Infatti, non è possibile mandare una sonda fuori dalla galassia e fare una foto, perché è talmente grande che l'oggetto più lontano mai lanciato dall'uomo oggi ha fatto a malapena poche ore luce, mentre questa è una visuale della galassia a una distanza di centinaia di migliaia di anni luce. Quindi, ovviamente, questo è un disegno, di fatto, però è un disegno che si basa sulle ultime scoperte di una Via Lattia. E noi ci troviamo più o meno a metà strada tra il centro e la periferia. Il sistema solare si trova, infatti, a circa 26.000 anni luce dal centro, precisamente 25.700 anni luce dal centro. Questo vuol dire che la luce che viaggia a 300.000 km al secondo impiega poco meno di 26.000 anni per andare dal nostro sistema solare al centro della galassia. La nostra galassia ha un diametro di 105.000 anni luce, quindi un raggio di 52.850 anni luce, quindi è molto grande. Per questo vi dico che questo è un disegno, non è possibile avere una foto dall'esterno della nostra galassia, perché nessuna sonda, nessuna fotocamera mai costruita dall'uomo è mai arrivata così lontano. Possiamo solamente immaginarla mappando quello che vediamo dalla Terra e vedendo come sono fatte le altre galassie e quindi ci si fa un'idea della nostra galassia. Come detto prima, la Galattia è una galassia a spirale barrata, ci sono un reso indizi che c'è una struttura a barra centrale lunga diverse migliaia di anni luce e poi esiste da 13,7 miliardi di anni, quindi è un oggetto molto antico, non è di recente formazione, sicuramente la parte interna è molto più antica e questo lo capiamo perché le stelle all'interno sono ricche di elementi pesanti, mentre la parte più periferica invece è molto più recente perché le stelle sono molto più giovani. Andiamo avanti e vediamo come appare frontalmente e di taglio. Frontalmente l'abbiamo appena vista, con il Sole a metà strada tra il centro e la periferia, però è possibile immaginarla anche di taglio. Vedete che ha la forma di un disco lenticolare con la zona al centro, il nucleo galattico, che è molto più spessa e poi con la struttura che man mano si assottiglia quando ci si avvicina verso la periferia, dove ci troviamo noi lo spessore di circa 3.000 anni luce. La galassia ha un alone galattico, ovvero esiste una nube sferica molto rarefatta di gas che la avvolge e in questa nube ci sono degli ammassi copulari, ovvero ammassi molto densi fatti da almeno di un milione di stelle che orbitano in tutte le direzioni intorno al nucleo galattico. Queste sono le stelle più antiche della galassia, che sono talmente antiche che si sono accese prima che si formasse il disco galattico, quindi per questo motivo si trovano ancora nell'alone galattico. E poi il disco, che è la zona di più recente formazione, dove all'interno si trova anche il Sistema Solare. Vediamo meglio in dettaglio la sua struttura vista di taglio, quindi vediamo qui l'immagine della galassia di taglio e noi ci troviamo, come detto prima, a 25.700 anni luce dal centro. Qui nel disco galattico c'è il Sistema Solare. Quali sono gli altri elementi importanti della galassia? Intanto il nucleo galattico, al suo interno c'è il buco nero supermassiccio, ovvero un buco nero con una massa pari a milioni di volte quella del nostro Sole, quindi un oggetto molto grande. Il nostro Sistema Solare è in orbita intorno a questo buco nero, ma siamo a una distanza di sicurezza. Ci sono ben 25.700 anni luce che ci separano, quindi siamo al sicuro. Poi ancora, ci sono queste bolle di raggi gamma, sia nella sezione meridionale a sud della galassia che quella invece a nord, cioè sopra il disco galattico. Cosa sono queste bolle di raggi gamma? Ogni volta che del materiale, gas, polvere o stelle, finiscono il buco nero, questo getta dei lampi di gamma verso la zona, in modo perpendicolare al suo piano di rotazione. E quindi queste gigantesche bolle di raggi gamma sono le gigantesche bolle emesse dal buco nero supermassiccio nei milioni di anni da quando esiste, e sono talmente grandi che fuoriescono dal piano galattico per decine di migliaia di chilometri. In questo momento geologico il buco nero della Via Lattea non sta mangiando nulla e quindi non vediamo nulla uscire dal suo interno, quindi in realtà noi dalla Terra non vediamo queste bolle luminose. Però possiamo vedere altre galassie, in quel caso definite galassie attive, dove il loro buco nero in quel momento sta mangiando del materiale, emette questi getti di gas, e questi getti di gas stanno alimentando queste bolle di raggi gamma sopra e sotto il disco galattico. Questa è una fotografia reale di una galassia attiva a forma di disco come la nostra, dove al suo interno il buco nero supermassiccio centrale sta mangiando tantissimo materiale, sta ingurgitando gas, polvere e stelle, e questo materiale attiva i getti di plasma che vanno ad alimentare le bolle di raggi gamma di quella galassia. Abbiamo detto che nel centro del nucleo, che è un nucleo barrato, come vedete, c'è il buco nero supermassiccio, sta qui al centro. Noi ci troviamo a 25.700 anni luce dal centro e noi ci troviamo nel braccio di Orione. Il braccio di Orione è un braccio di gas e polvere che contiene anche il nostro sistema solare, non è connesso con il nucleo galattico, infatti si interrompe in questa zona, e si trova tra due braccia. Abbiamo il braccio del Sagittario davanti, che ci copre il nucleo galattico, si chiama braccio del Sagittario, perché quando osserviamo il nucleo galattico, tra noi e il nucleo galattico c'è questo braccio di polvere, e qui vediamo praticamente questa nube scura che serve il braccio del Sagittario, che copre il nucleo galattico retrostante luminoso. E in quella direzione vediamo la costellazione del Sagittario, per questo motivo viene chiamato braccio del Sagittario. Così come il nostro braccio, quello di Orione, viene chiamato braccio di Orione, perché contiene la costellazione di Orione, che è questa qui. Infatti Orione è la costellazione invernale, con le tre stelle che fanno da cintura, e la Beetlejuice, la supergigante rossa, che si trova alla fine della sua vita, più o meno qui come spalla di Orione. E poi, dietro di noi, nella zona meno luminosa del cielo notturno, abbiamo il braccio di Perseo. Infatti il braccio dietro a quello di Orione non si vede per niente, perché non c'è nulla di luminoso dietro con il quale vedere la sua sagoma, come avviene per esempio con il braccio del Sagittario, però lo possiamo identificare così, perché per vederlo dobbiamo guardare in direzione della costellazione di Perseo, e quindi si chiama braccio di Perseo. Poi sappiamo che esiste un braccio esterno con una quantità di stelle molto minore e molto più giovane, e quindi è molto meno luminoso. Esiste invece, dalla parte opposta della galassia, il braccio del Cigno, che sarebbe l'antagonista del braccio del Sagittario, ovvero il braccio del Sagittario parte da uno degli estremi del nucleo barrato, il braccio del Cigno parte dall'altro estremo del nucleo barrato. Ancora, esiste un braccio opposto a quello di Perseo, che è il braccio dello scudo a croce. Però vediamo meglio questa struttura. Esiste infatti una mappa che è stata redatta studiando bene in dettaglio quello che riusciamo a vedere dalla Terra, però anche osservando le altre galassie. Noi ci troviamo qui, dentro il braccio di Orione, tra il braccio di Perseo e quello del Sagittario, come appena spiegato. Però esiste una fetta della galassia che non possiamo vedere, la zona d'ombra, che è nascosta dal nucleo galattico, dal braccio di Sagittario, e quindi c'è questa zona che noi ce la immaginiamo per simmetria uguale al lato nostro, però in realtà non sappiamo se qui c'è un buco di fatto. Normalmente però, vedendo le altre galassie e pensando che la nostra non ha subito grandi devastazioni ed è abbastanza regolare, dovrebbe essere come immaginata nella slide precedente. Quindi sappiate che, anche se abbiamo a grandi linee un'idea di come è fatta la galassia, c'è una bella fetta enorme chiamata zona d'ombra perché non la possiamo vedere da dove ci troviamo. E poi ci sono le stelle intorno al Sole, ovvero intorno al Sole ci sono almeno 2000 stelle in un raggio di 50 anni luce. Dove ci troviamo noi è una zona abbastanza rarefatta di stelle e questa è una fortuna per noi perché la nostra galassia ha diverse zone a diversa densità stellare. è una galassia dove stimano almeno 400 miliardi di stelle e 400 miliardi è una stima. Immaginate la galassia noi ci troviamo in questa zona verde. Che cos'è questa zona verde? è la zona dove è possibile trovare un pianeta con le giuste condizioni per la vita. Perché? Perché se andiamo troppo fuori dalla galassia le stelle sono molto rarefatte quindi diciamo i pianeti che gli apri intorno sono poco disturbati dalla reazione delle stelle vicine però sono stelle giovani è una zona recente ci sono pochi elementi come silice ossigeno che sono importanti per costruire i pianeti rocciosi come la Terra o mancano o comunque sia sono molto rari elementi come il carbonio l'azoto e l'ossigeno che invece sono elementi importanti per costruire le proteine gli zuccheri e i grassi degli esseri identi quindi è una zona in cui difficilmente si potrà formare la vita poi magari qualcosa c'è pure ancora non lo possiamo sapere adesso però sicuramente se devo investire dei soldi o degli anni per cercare la vita non è il primo posto dove lo vado a cercare ancora esiste un'altra zona non abitabile o comunque sia ostile alla vita della galassia che è il nucleo galattico questo perché le stelle qui sono almeno un milione di volte più dense dove ci troviamo noi quindi ogni volta che una stella completa il suo ciclo vitale ed esplode fa una strage e sterilizza decine di sistemi planetari con possibili pianeti abitabili intorno a essa calcolate che dove siamo noi ci sono almeno 2000 stelle nel raggio di 50 anni luce in questo stesso volume all'interno dell'avia latte ci sarebbero milioni di stelle e quindi ovviamente una zona più affollata di radiazioni è una zona più ostile della vita e poi invece c'è la zona dove ci troviamo noi infatti in questa zona abbiamo un giusto rapporto tra la distanza tra le stelle calcolate che il sistema solare più vicino alla terra è alfa centauri e sta a 4 anni e 4 mesi luce vuol dire che intorno a noi c'è 4 anni e 4 mesi di niente quindi non ci sono stelle vicine che esplodendo potrebbero dare fastidio all'evoluzione della vita sulla terra o causare estinzione di massa infatti non è un caso se un pianeta così ricco di vita come la terra si trova guarda caso proprio nella zona più abitabile della galassia poi non possiamo dire al 100% che nella zona centrale non c'è vita e che nella zona periferica non c'è vita però ripeto se uno scienziato deve investire tempo dei nauri di energie per cercare altra vita nella galassia sicuramente il primo posto dove cercare è nella zona verde per i motivi appena spiegati poi che cosa fa il nostro sole in questa zona orbita intorno alla galassia in realtà intorno al buco nero centrale e orbita portandosi appresso tutto il sistema solare quindi in realtà il reale movimento della terra dei pianeti del sistema solare del sole è così con la stella che si muove di centinaia di km a secondo intorno al piano galattico trascinandosi con sé tutti i pianeti che le abitano attorno l'orbita reale risultante del sole non è lineare come quella dei pianeti ma è ondulatoria cioè il sole si muove intorno alla galassia con questo moto ondulatorio e ci mette 235 milioni di anni a fare un giro intorno alla galassia da quando si è formato il sole la terra e tutto il sistema solare ha compiuto solamente 25 giri e l'ultima cosa lo spessore della zona abitabile dove si trova il nostro sole è molto vasto per fortuna e va dai 13.000 ai 32.000 anni luce dal centro galattico quindi la nostra galassia ha un'enorme zona abitabile che potrebbe ospitare numerosi pianeti ricchi di vita come la terra andiamo avanti e vediamo l'effetto Doppler tutte le onde meccaniche elettromagnetiche o spazio-temporali che siano possono essere percepite in modo diverso in base al moto relativo tra la sorgente e l'osservatore questo è un fenomeno che vediamo sulla terra con le ambulanze e con le sirene se un'ambulanza si avvicina lo capiamo ascoltando la sirena perché aumenta la frequenza della sirena stessa quando invece l'ambulanza ci sorpassa e si allontana la frequenza si rallenta e noi capiamo anche senza vederlo che l'ambulanza si sta allontanando quindi l'ambulanza è una sorgente sonora che emette onde sonore e un osservatore fermo per strada capisce se quella sorgente si sta avvicinando si sta allontanando dal modo in cui queste onde sonore cioè il suono dell'ambulanza viene percepito dall'osservatore stesso questo fenomeno chiamato effetto Doppler è molto importante nell'universo e lo possiamo osservare anche con la luce anche la luce è un'onda elettromagnetica infatti le diverse lunghezze d'onda della luce corrispondono ai colori le lunghezze d'onda più lunghe corrispondono al rosso quelle più corte corrispondono al blu perché questo è importante? perché questo signore signor Hubble scoprì l'espansione dell'universo perché negli anni 20 osservando le altre galassie vedeva che queste galassie avevano una luce più rossa di quella che dovrebbero avere ciò significa che la luce delle sue stelle deviava verso il rosso quindi appareva un po' più arrossata di quella che doveva essere perché la galassia si stava allontanando è l'equivalente luminoso dell'ambulanza che si sta allontanando con la sirena che diventa sempre più fioca quindi se la luce allunga la sua lunghezza d'onda l'oggetto appare rosso se invece si avvicina appare blu allora questo signore ha formulato una legge chiamata legge di Hubble e ha visto che più una galassia era lontana più la galassia si allontanava da noi velocemente quindi c'è una diretta correlazione lineare tra la distanza della galassia di noi e la velocità con cui si allontana quindi più una galassia è lontana e più velocemente si allontana da noi e questo viene spiegato con l'espansione dell'universo ovvero non è la galassia che si sta allontanando ma è lo spazio tra le galassie che si sta espandendo trascinandosi le galassie via questa scoperta di fatto ha fatto scoprire l'espansione dell'universo ovvero l'universo sta aumentando le sue dimensioni le galassie rimangono uguali le stesse dimensioni però queste galassie vengono trascinate da questa espansione dallo spazio che li evita e più una galassia è lontana maggiore è lo spazio che ci separa maggiore è la velocità con cui si sta allontanando qui vediamo un'immagine che fa vedere come le galassie spostandosi si allontanano e noi percepiamo la loro luce è sempre più rossa perché ovviamente l'espansione dell'universo fa espandere anche la lunghezza d'onda della luce che la sta attraversando quindi Hubble ha scoperto che con il passare dei milioni di anni l'universo è cresciuto e questo è stato sconvolgente per l'epoca perché prima si pensava che l'universo fosse sempre esistito infatti questa scoperta ha dato origine alla teoria del Big Bang infatti se noi proviamo a immaginare a ritroso il percorso delle galassie se vediamo l'espansione l'universo come un filmino riavvolto vediamo che tutte le galassie convergono verso un punto quindi c'è stato un inizio in cui tutte le galassie dovevano provenire da un punto e gli scienziati hanno scoperto che l'universo ha avuto un'origine da qualcosa di molto simile a una grande esplosione in realtà è stata una grande espansione sembrano termini simili ma in realtà sono due concetti molto diversi perché non è stata un'esplosione di un punto ma è tutto l'universo che si è espanso da quel punto questo evento è datato 13,7 miliardi di anni fa ovvero 13.700 milioni di anni fa e pare che in quel momento tutta la materia che compone i pianeti le stelle e noi e tutta l'energia dell'universo fossero concentrate in un punto più piccolo di un atomo con una densità e una temperatura molto elevati gli scienziati ancora non hanno capito perché c'è stato questo momento iniziale e come è cominciato per questo motivo questo momento questo punto viene chiamato la singolarità ovvero un evento che sappiamo essere esistito ma non sappiamo ancora perché è esistito detto questo ho finito anche la quinta lezione del mio corso di scienze da terra per licei nella prossima lezione parlerò del sistema solare vedremo come si è formato vedremo la sua struttura con i pianeti rocciosi interni e con i gassosi esterni e poi parlerò anche dei corpi minori comete asteroidi e pianeti nani potete trovare questa lezione e tutto il mio corso di scienze naturali per licei nel mio canale youtube e sulle mie pagine facebook e instagram prof. Antonio Loiacono grazie